Ciao sono Magio, quello che andremo a provare oggi insieme è God Simulator 3, il terzo capitolo di una delle serie più deliranti della storia videoludica, ovvero il simulatore di capre. Sì, lo so, sembra un'assurdità, il primo era una cosa abbastanza rudimentale, ma andando avanti si potrebbe definire non tanto un GTA, quanto più un Saints Row con le capre, quindi il delirio più totale. Andremo a vedere insieme i primi minuti di gameplay, circa 15, per capire se vanno o meno i vostri soldi. E adesso ce ne andiamo a vedere. Eccola qui la nostra capra preferita, vabbè, di una delle tante, tanto non si distinguono le capre, a meno che non parlino. Sì, ecco i nostri compagni d'avventura, sembra l'inizio di uno Skyrim qualunque, ma in realtà siamo di fronte a God Simulator 3. Belli, i banchetti di hot dog per strada così, non è niente, belli. Non ho cagato pari quello che ha detto il tizio, ma tanto sarà così, è l'anarchia pura questo gioco. Vorrei provare a fare veramente la capra, ruminando e basta, per vedere se il gioco si bugga, perché non è previsto, ma non credo che lo farò. Dobbiamo zoomare. La grafica è impostata al massimo, eh. Così avete un'idea anche dell'impatto grafico del gioco e delle nostre amiche con la lingua di fuori. Ma nessuna di queste urla cose tipo, Mark! C'è lassù. Nied! L'astronave la voglio! Basta, fammi scendere, voglio l'astronave! Daniddo! Che cos'è? No, è un rotore, non lo so, ma lo voglio. Devo ricordare questo posto, mi devo ricordare questo posto. Fammi scendere! Maledetto! Sì, sì, è un multiplayer, va bene. Fammi scendere, voglio andare lassù! Che me lo frega il piccione, è lì che sta guardando in direzione dell'oggetto. Ok. Sì, sì, ma mi ritrovi, va tranquillo, contadino affabile. Un pallone anche, no, voglio andare fino a là. Sì, sì. Guarda, sto qui, ma aspetti... Mi ritrovi fra qualche giorno. La vedo, la vedo. Sì, ma quella è per le capre, noi siamo capre volute. Guarda com'è questa, guarda. Guarda com'è rumina la nostra amica. Rumina l'aria anche. Sì, la vedo. La vedo la torre. Sì, come no? Io guarda, ho visto l'astuce, la roba verde e il piccione è ancora lì. Fammi scendere! Maledetto! Guarda, giurin, giurella, prendo quella cosa verde e poi quello che succede, succede, vado alla torre. Va bene? Ci credi? La mia carrozza Skyrim, infatti, eh, l'avevo detto, sembrava Skyrim. Ho guardato l'intro, ma non era schippabile. Vai, fammi scendere, accidente, a te e la tua genia precedente. Ok. Salta! Sprinta e salta! Dobbiamo andare lassù, dobbiamo andare lassù, l'ho detto, eh. La nostra missione è quella. Siamo nella stagione della mesitura, ma ce ne sbattiamo, perché noi siamo delle capre che stanno salite le scale, quindi... Poche chiacchiere. Come ci arrivo lassù? O no? Se io si può... Facessi cose casuali, si può spaccare tutto. Ok, adesso è diventata una mia sisrebbia. Ok. Ma arrivo lassù. Oh! 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 Sì! Sì! Eh! No! No! Qui si stava arrampicando su una specie di fune, eh? No! Oh! Oh! Come faccio ad arrivare lassù? Maledetto se! Ah! Posso cercare di fare macello, però! Lecche e trascina? Cos'è lecche e trascina? No! Sì! Ciao! Si sforma in un puzzle game, più che un simulatore di paccate, com'era! No! Devo arrivare lassù! Oh! Zompi e controzompi! Ok! Un montaglio fra sei ore ci arriverò! Non ci arrivo, non ci arrivo, insomma, ho capito! Arrivo a leccare anche questo? Sì! No, no, no! Vai in avanti! Ma per cos'è? Un marshmallow gigante? Un rotolo di flurible? Che è? No, no! 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 Torna da me! Torna su! E tornare qua! Qua! Questa è la tua posizione! Forse ce la faccio! Forse ce la... Mi sono puggato de... Sto morendo dentro! No! Ce l'avevo quasi fatta! Basta! Non ce la faccio! Andrò alla torre e vedrò cosa vuole questo dannato tizio! Posso picchiare le altre capre? Le persone? Voglio picchiare le persone! Oh! Sì! Spacca tutto! Spacca tutto! Possiamo guidare il trattore! Voglio guidare il trattore! Perché sto andando di culo? Perché sto andando di culo? Ma io boh! Guida! Ale! Miesi togni bene! Miesi tutto! Sì! Attivo... Attivo anche! Certo è attivo! Basta! Già... Già distrutto tutto! Posso andare molto oltre! Posso mietere anche la gente? O no? Sto mietendo il grano! Signor! Non so come si fa... È la prima volta che guido un trattore! Signora! Signora! E non sono esperto di trattori! Aspetta! 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 Attiva il ragdoll! Che bello! Salta! Aspetta! 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 Portaselo! Che bello! Che devo andare... Che devo andare... A saltarellare di qua! Vieni! Vieni di qua! Quanto mi farà saltare sta ageggio? Abbastanza da arrivare! Prego! No, è girato male C'è una possibilità che Eh! Girati Ti devi girare Girati È diventato un giraci No, funziona anche alla rovescia Ma perché? Secondo quale legge della fisica funziona? Non lo porto per le scale Scusate Permesso Ci riesco a salire le scale con questa gege? No, perché sarebbe definitivo Sali le scale? No, non le fa Che peccato, che peccato Forse sì? Ho una lingua lunghissima ora No, non ci va Che peccato Prego Sali Che peccato Non me le fa fare Ma non ho un metodo Migliore per arrivare là No, vabbè, andrò alla torre Però sempre con Un trattore Got theft auto Suono, suono Via dai coglioni Sono una capra, ragazzi, a guidare Ops Ops Messo Stavola, andiamo di culo, mi piace Sincronizza Cosa sincronizzo? Comunque l'ho sincronizzato Qualunque cosa sia Oh Oh my god Che sta su Sono io che sono volato di sotto Un portalu C'è il pollice verde Gardening school Ah, è tipo Uno Zelda Breath of the Wild Qualunque Mi fa vedere tutti gli obiettivi Quando Sì, quello l'avevo visto Ma non ci arrivo Che sofferenza Non ci arrivo lassù Si entro nel portale Sono sempre io che sono in terza persona Abbriaco fra l'altro Ok, sono entrato Quindi So my god fantasy Si, sono proprio io Fammi entrare Anche la cazzina Con noi muoviamo il personaggio È bellissima sta cosa Oh no È tutto chiuso? C'è da sbloccare queste cose? Quanta carne al fuoco Hanno voluto mettere? Porta è ovviamente molto chiusa Perché qui riesco ad arrivare a 600 metri d'altezza E normalmente no Non va mica bene Chi era la tizia che parlava? Io ho sentito una voce Ma signor Comunque Posso spaccare il vetro? No, niente Spaccare il vetro Purtroppo no E allora Ci riproviamo Come le star Andiamo a rompere i coglioni Intanto al piccione Perché il piccione è lassù Non ci deve stare Questo è territorio mio Via piccione Ma è finto Ehi, dove sta va? Posso leccare il piccione? Voglio leccare il piccione Leccalo No, l'ho ucciso L'ho mangiato Che è successo? Vai in avanti Forse ce la faccio da qua No No Ti odio Stai rimbalzando E vai Ho un cappello Sono rubber di One Piece adesso B Posso belare? Bam Bam, bam, bam Ok Ho vari obiettivi C'è un punto interrogativo Andiamo al punto interrogativo C'è la scuola di gardening No, voglio andare prima qua Sono i scatole che volano Eh no Qui c'è qualcosa Che c'è qui dentro? Cosa c'è qui dentro? Spaccati Tutti i tuoi maiali Ah È tutto elettrificato Oh no Ah È trovato un giro di schiaffi Aspetta voglio mandare i maiali a cuocersi Vai maialino cuociti Ma muoiono alla prima Diventa bacon in qualche modo Perché questa è elettrificata? È stata piena di energia pura Ma sono elettrificato pure io Posso cuocere i pomodori Oltre a scorreggiare? Che bello Do le scosse a tutti Eh la la Vabbè era per darti una scossa Alla giornata Dai Ah altra roba Eh Ce la faccio? Ce la faccio E mo? Cazzo no Non ho la sella Posso far Posso far montare sopra Le altre capre Voglio altre capre Dove l'ho mandato? Guarda No No Ho una gallina sopra Ma che meraviglia Ho una gallina Non ho paura a usarla Non era questo elettrificato? Sembrava di sì Pallone Disponibile solo nella versione C'era scritto Multicocatore Ok Sono il single player Quindi nulla L'altro punto interrogativo Da queste parti Eh l'ho messo e cappottato Andiamo a vedere che c'è di qua Uè Guarda qua Cosa va? Con le capriole anche Porta non si apre? Posso leccarla Se voglio Eccola qua Signora Mi spara Sta puttana Con il bazooka Tiro Una breccola Mi fai rinsavire Torno col trattore Signora Torno col trattore E le faccio passare La voglia di esistere Dove è il trattore? Datemi un trattore Tornano incazzato Tanto ti fulmino Fulmino tutti quelli Sulla mia via Adesso L'imparate Farmi incazzare E datemi un trattore Dov'è il trattore? Dov'è il trattore? Tirate fuori Un cazzo di trattore Faccio le capriole Intanto Poi mi cappotte Ce n'era un monte Di trattori Dove sono finiti? Stai torna a quella Gli fo' un culo Gli fo' Anzi Le fo' Parliamo per bene No Aspetta Come si attivava La mia si slebbia C'è il turbo In questa Alla si Mi fa un culo A quella Ora No La siepe Più dura Dell'universo Dov'è la puttana? L'ho persa Dov'è la puttanissima Troissima Dov'è? Dov'era? Ma è possibile Che mi perdono Un bicchiar d'acqua Sempre? Dov'era? Fizia che sparava Era a queste parti Scusate eh Sto solo cercando Di raccapezzarmi E non è che ce l'ho con voi C'è una cosa specifica In realtà No Torna indietro No Ricirati Aspetta Però con la leccata La ritiro su Sono quasi certo Di questa cosa Cavolo Ce la faccio Invece sì Attenzione La potenza Della lingua Di queste bestie Dalle belle corna Dov'era il troione Con Con la spara cose Rappi dietro E si nasconde Eccola qua Il troione Mori Mori E di morire Ah Invasione Dov'è il bazooka? E si aprono Delle porte E Chissà dove Conduce questa Ci interrompiamo qui Per questo video Introduttivo Chissà cosa ci sarà Dopo questa porta Lo scoprirete Comparando il gioco Se questo video Vi è servito A capire Se vale o meno I vostri soldi Spero di sì E noi ci vediamo Al prossimo video Ciao Ciao